Ciao a tutti! Oggi prepareremo i dolcetti alle mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono granella di mandorle, malvasia, zucchero, uovo e tuorlo, burro fuso, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato. Diamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la granella di mandorle, la malvasia e 20 g di zucchero. Ed azionare il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, velocità, soft, senza misurino. Mettere da parte. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'uovo e il tuorlo. ed azionare il bimbi senza il misurino per 4 minuti a velocità 4. Aggiungere il burro fuso, la farina e un pizzico di lievito. Ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Versare il composto in una teglia rivestita con carta da forno. Mettere sopra le mandorle. Cuocere in forno prediscaldato a 180 gradi per 15 minuti. I dolcetti sono cotti, dobbiamo tagliarli ancora caldi. Lasciare raffreddare completamente, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Dolcetti alle mandorle. Grazie e alla prossima ricetta. fa unnaturalmente le심ite smica. gli vetri di totale sono 60 pimenti alle bimbi per live, Membrati quest'ide.